Caro amico appassionato di api e fiori, cara amica amante di miele e nuove ricette, sei nel posto giusto. Sono Samuel Ciacchi e ho preparato per te questo fantastico video in cui scoprirai alcuni modi per usare il miele in modo pratico in cucina. Sigla! Prepariamo l'emulsione. Ho messo due due cucchiai di miele. Ho usato del miele di agrumi, cristallizzato. Va bene anche cristallizzato. Devo scioglierlo un pelo perché poi dovrò aggiungere l'olio a creare l'emulsione. L'emulsione che tutti conoscono è la maionese. olio e uovo. In questo caso invece facciamo miele e olio. Aggiungo un po' di aceto che ha la funzione di cominciare a sciogliere il miele che dovrò poi servirci per marinare il pesce. Il pesce è già stato sfilettato ed è stato, hanno fatto una tartare di pesce. Poi vedete ho aggiunto quel minimo di aceto che mi è stato sufficiente per sciogliere il miele, ok? Vi dico ci sono alcuni miele che non vanno bene, nel senso che se gli metto il castagno e neppure un corbezzolo con delle orate, cioè mettiamo qualcosa che sia poco invadente. Io ho scelto un arancio perché comunque florale nel pesce non ci sta male. Per cui una volta diluito il miele devo mettere il sale perché poi nella marinatura è fondamentale avere anche il sale. Ho messo un bel cucchiaio di sale, ma c'erano due bei cucchiai di miele, lo giro e poi vado ad aggiungere l'olio a filo e man mano che aggiungo l'olio, l'olio viene incorporato. Un'insalata estiva la puoi condire con questa volendo, gli puoi aggiungere come fanno in Francia spesso un po' di senape, magari quella senape all'antica con i semi di dentro. Vi assicuro che è un'insalatina condita con un po' di senape, per questo oggi prepareremo un'insalata di carciofi e la faremo con questa emulsione e voi sentirete subito la differenza di avere un'emulsione a condire piuttosto che non solo l'olio e il sale. L'emulsione è venuta, è una gelatina adesso. A questo punto io invece questa soluzione la metto dentro il pesce. Cosa fa il miele? In parte mi toglie un po' di acqua al pesce, chiaramente, perché essendo acido me lo va, però in maniera inferiore di quanto non farebbe il limone, ma sufficiente per darmi una sensazione di cotto, poi è prodotto finale che non è crudo. Quando ha fatto una marinatura di poco superiore a un quarto d'ora, il pesce non ha più la sensazione di crudo, si sente già che in parte è marinato. Il miele mi preserva il sapore e riusciamo a riconoscermi il miele che c'è. Ciao, sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video. Se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace qua sotto. Magari potresti anche iscriverti al mio canale, sto preparando dei video davvero eccezionali per te. Ti basterà cliccare sull'icona qua di fianco o rotonda, quella con la mia faccia, e troverai anche due riquadri qua di fianco. Quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che è appena finito di guardare. Quello più in basso invece ti farà cambiare completamente l'argomento, ma sono sicuro che ti piacerà un sacco. Bene, allora grazie per il mi piace e buona visione. Ciao!